benvenuti io sono il cencio e questo è un nuovo episodio di fallout 3 mi dispiace veramente tanto ora qui stiamo facendo un casino a miseria con il carrello dicevo mi dispiace veramente tanto perché in questo episodio è successa una cosa veramente particolare che vedrete tra poco però mentre che ero dentro Megaton il gioco è crashato circa 5-6 volte di seguito non so per quale motivo poi ha smesso però lì per lì è crashato in una maniera immonda ripetutamente e questo non so come vi giuro non riesco a capacitarmi di come sia potuto succedere ma questo è andato a corrompere i file audio i miei file audio cioè la registrazione del mio microfono non del gioco non so come questo sia possibile però la storpiatura è iniziata subito dopo i crash quindi ho deciso di cancellare i file audio perché erano inascoltabili era un continuo e li sto rifacendo da capo adesso con voi mentre in post produzione per colpa di come dire di questo inconveniente ho dovuto accorciare di molto il video infatti se noterete è molto più breve dei normali video di fallout 3 perché alcune parti vi sarebbero ovviamente risultati noiose visto che non posso ricordarmi assolutamente quello che vi stavo dicendo io questo genere di video qua non mi preparo niente da dire quello che vi dico è quello che mi viene spontaneamente ora quindi quelle parti le ho tagliate ora nell'ultima puntata avevamo sgomberato il super duper mart per moira e adesso sono tornato e non far caso all'odore stavo solo testando un paio di dicevo sono tornato per consegnargli la quest come si suol dire come è andata la scorribanda hai preso il cibo e le medicine nel super duper mart davvero davvero fantastico dimmi tutto dici che hanno una scorta molto ben protetta mi chiedo quanti altri tesori siano in mano ai mostri beh conserva ciò che hai ho appena trattato una spedizione di cibo ecco prendine un po offro io ha un sapore alquanto acidulo dopo un po prendilo è un vecchio sterilizzante per alimenti portalo con te e renderà il cibo e le bevande più migliori ecco questo sterilizzante in futuro ci farà molto molto comodo certo hai fatto un buon lavoro devo inserire un paragrafo su come cucinare i ratti e il capitolo è finito tieni per i tuoi servizi ho conservato un bel po di steampack naturalmente potrebbero esserti utili abbiamo ancora due capitoli da fare qua potevo scegliere se continuare a fare le missioni secondarie per moira o interromperle ho deciso di interromperle un attimo non posso costringerti a lavorare no perché avevo da fare una cosa più importante innanzitutto volevo quello zaino sicuro e lo prenderò devo solo costa un botto guardate che roba c'è lo zaino più piccolo da 15 kg costa 357 tappi una bomba a me non mi andava di vendere le armi veramente buone che avevamo trovato nell'ultima puntata dentro il supermercato tipo quella m60 che valeva una tonnellata di soldi mi sembra 290 tappi valeva quella affare una cosa esorbitante quindi ho cominciato a togliermi di mezzo tutta la roba superficiale diciamo quello che non mi serviva strettamente che poteva valere un bel po di soldi tipo le mazzette di banconote prebelliche e cos'è che gli avevo venduto poi adesso non stavo facendo attenzione nel video mentre vi parlavo comunque gli ho venduto un bel po di immondizia mettiamola così e sono riuscito a tirare su i soldi necessari per lo zaino qui avevo un po di indecisione perché visto che avevano varie colorazioni la aveva la mimetica snow la digital camo occupat quindi non sapevo quale scegliere ho guardato se fossero tutte uguali e poi alla fine ho optato per quella classica perché a intuito mi dava l'idea di una skin estetica che si potesse abbinare un po con tutto ecco tanto per fare i fashion victim ero ancora indeciso ora riguardando questo video così commentando velo poi mi rendo conto di quanto tempo perdo a parlare a sragionare a dire cose chissà qui che cavolo stavo dicendo 15 kg digital camo chissà che pa 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 chissà che cavolo stavo dicendo comunque alla fine prendo come vi dicevo prendo la versione classica buona caccia ricorda che ovviamente mi metto subito perché non vedevo l'ora che poi in realtà sarebbero 15 libbre non 15 kg guardate che carino che è quello zainetto dietro quello piccolo è fatto divinamente questo ovviamente fa sempre parte di una mod è meraviglioso cioè non vedo l'ora di vedere quello grande voglio assolutamente lo zainone grande perché deve essere qualcosa di epico magari ecco se si indossa una power armor no com'è che si chiamano qua si l'armatura atomica la power armor sicuramente stonerà un po non so se si vedrà esteticamente sulla schiena del personaggio anche con una power armor una volta effettuato l'acquisto decido di tornare a casa per svuotare tutta la roba in eccesso perché avevo un peso della madonna qui ho fatto un taglio tattico per non ammorbarvi e qua vi stavo parlando di una cosa fighissima che ho trovato ho notato per caso mentre che non stavo registrando tra le varie qui pensavo che era nelle cose radio ma invece nelle missioni avevo una missione che si chiamava animal rescue cioè salvataggio animale e dice aiuta il cucciolo di cane prima che muoia ecco io quando ho visto questa missione sono impazzito il cucciolo di cane via subito quindi ho mandato a fanculo le quest primarie e sono andato di corsa cercare di salvare il cane lungo il viaggio anche qui ho fatto un altro piccolo tagliettino ho trovato questo vecchio fienile e volevo dare un'occhiata per vedere se dentro c'era qualcosa di utile ma ho notato che non ero solo qui partono subito le granate addirittura non è per questo che ho deciso cambia idea subito quell'altro lo sta a guardare malamente avete visto che figa l'intelligenza artificiale a parte che ogni tanto lì si impalla un po' come quello che lo stavo a guardare però il tipo che è arrivato a mani nude quando gli ho sparato ha iniziato a ritirarsi e quando è arrivato anche l'altro compagno si è sentito in superiorità numerica e allora è ripartito alla carica questa è una mod ripeto anche questa che va a modificare l'intelligenza artificiale poi più avanti nei video vedrò di pubblicarvi quante più possibili mod mi ricordo di aver inserito perché le vado a prendere dal fallout manager i nomi ma alcune non so perché quando si installano nel fallout mod manager cambiano nome e hanno dei nomi stranissimi che non c'entrano niente con il nome originale sono tipo dei nomi descrittivi e quindi non vi sarebbero di aiuto per trovarla guardate questi stronzi che hanno delle overdose di eroina che io le ho prese perché non si sa mai magari in futuro posso farci qualcosa posso usarle nei proiettili o nelle armi milì tipo per avvelenare l'arma lì mi sono subito spaventato ma quello è uno schiavista e alla fine non avevano niente se non quel contratto di sterminazione una granata impulsi che è tanta roba e io ho preso anche le armature qui sono entrato per dare un occhio quello che volevo fare fin dall'inizio volevo vedere se ci fosse qualcosa di interessante ma quello che mi attirava era quel contratto di com'è che si chiamava di sterminazione che dice trova cencio e fai vedere come trattiamo le persone che non si comportano secondo le aspettative del signor Tempenni non deludermi sai cosa succederà se non madonna c'ho lo schermo piccolo se non a secondi scusate ma vi sto parlando mentre da Adobe Premiere mentre uso per montare c'ho lo schermino piccolo quindi è stato quel maledetto tipo che voleva far saltare Megaton a mandarci questi mercenari per farci fuori approviamoci questa armatura perché qui controllavo un po' le statistiche per vedere se era una schifezza o no ma le statistiche decisamente più alte delle nostre anche se la nostra ha dei bonus che questa non ha quindi non è da buttare via diciamo che è più situazionale la nostra ho provato a ripararla ma non potevo perché non avevo abbastanza abilità di riparazione quindi l'ho proprio bellamente buttata via guardate che figa che è questa armatura guardate con lo zainetto come ci sta bene adesso sì siamo vestiti da mercenari il che è un po' controproducente per noi però alla fine non ci interessa siamo in un mondo post apocalittico quello che si trova di buono si prende chi se ne frega di che marca è ok altro taglio lungo il viaggio non c'era bisogno che vedeste una camminata infinita nelle lande desolate e qua sono arrivato all'indicatore della missione dove dovrebbe essere il cucciolo di cane qua vengo attaccato da un wild boar che a questi casi sembrano tantissimo i wild boar cioè i cinghiali selvatici non selvaggi di stalker non so se l'avevo già detto ma sono praticamente uguali quasi uguali credo che il creatore della mod si sia ispirato a quelle creature lì il cucciolo di cane dovrebbe essere a regola proprio dentro quel bunker qua non mi ricordo che cosa stavo controllando mi sembra che avevo visto qualcosa di strano a un gecko i geck invece li ha ripresi direttamente da fallout new vegas eccoci dentro al bunker ho acceso la luce perché non mi sembrava un posto minaccioso ed ecco qua il cucciolo di cane che più che un cucciolo di cane mi sembrerebbe un lupo vero e proprio ed è piuttosto messo male a quanto sembra qua ho visto la workbench volevo dare un occhio se potevo creare il kit medico per poter curare il cane ma non avevo minimamente niente guardare quanta roba ci vuole per fare un kit medico per curarsi il forcipe che non si sa perché serve il forcipe c'è una sega da ossa uno scalpello i tweezers che non so che cosa siano sinceramente e niente non avevo nessuno di questi oggetti quindi mi è presa un po' male cioè avevo solamente la scatola da del cibo qua volevo vedere se potevo riparare l'armatura ma non c'era l'opzione di repairing poi dopo più avanti nel video che poi l'ho tagliato adesso ho capito che non c'è un'opzione nelle workbench semplicemente le workbench hanno un'area intorno a loro in cui se io sono all'interno ho un bonus di riparazione e questo bonus mi permette anche oltre che riparare meglio ma anche di riparare le cose oltre al 75% di durability là sopra ho visto il manico di un fucile proprio a pelo l'ho visto il fucile da caccia è un'ottima arma iniziale per Fallout 3 è veramente veramente buona si trovano spessissimo le munizioni e fa un discreto danno è precisa è una signora arma per iniziare Fallout 3 eccolo qua è messo malissimo vedete il cane è messo parecchio male forse dovrei prendere quel libro di addestramento canino vicino alla lampada probabilmente ha qualche contiene qualche informazione base sul primo soccorso sul pronto soccorso per il cane che è qui sotto c'era proprio davanti al naso e lo stavo cercando tra le note perché è un libro pensavo che era qua e invece no neanche neanche tra tra gli oggetti se non sbaglio me l'ha messo dovevo proprio interagire con il cane infatti tra pochissimo è quello che farò mi dispiace tantissimo dovervi dare un commentare così è proprio brutto mi dispiace un sacco però purtroppo io ci ho provato ma non sono stato in grado di recuperare i file audio qui continuo a ripeterci che il cane è messo veramente male ha sangue dovunque sta pure morendo di fame a quanto pare probabilmente è stato chiuso qui dentro da un sacco di tempo e qua praticamente inizia a spiegarci tutti diciamo i principi base su come accudire il cane poiché se riusciamo a salvarlo questo diventerà il nostro cane qua me li sono letti un po' poi ora ve lo taglio perché insomma non c'è bisogno anche perché ho passato in questo video ho passato quasi metà del video a cercare di capire come funzionasse questa mod che è complicatissima ho un sacco di feature vediamo che adesso dopo aver letto un casino di roba ho dato un sacco di steam pack al cane per curarlo ma veramente tanti gli hanno dati tipo 4 o 5 steam pack per tirarlo su e adesso mi mancava solo da dargli del cibo e stavo cercando di capire come dargli il cibo si è rimesso in piedi proprio istantaneamente e qua c'è questa scenetta in cui noi parliamo con il cane come se lui ci capisse dal dialogo lui gli dà del lei al cane cioè nel senso si capisce che è una femmina anche qua non sto a ritradurvi quello che gli dice perché non ha molto senso il cane il cane non credo comprenda le nostre parole ma a quanto pare le comprende e morale della favola dopo un po' cerco di fare in modo che venga con noi perché come si sa una delle cose più belle che si possono fare su Fallout 3 è completare tutta l'avventura solamente con il compagno animale è bellissimo e questa mod sostituisce il compagno animale base di Fallout 3 con questo che è molto più avanzato ma molto più avanzato ragazzi tanto che gli si può per esempio gli si può anche cambiare nome pensate un po' ecco come vi dicevo qua c'è una lista di nomi infiniti purtroppo non li posso scegliere io alla fine scelgo per mia visto che era una femmina mia mi piace un sacco come nome femminile eccoci fuori guardate ha pure un fulmine alla Harry Potter sul fianco è un po' troppo lucente devo dire riflette la luce in una maniera incredibile però è veramente bellissima poi con quel fazzoletto al collo è favolosa e preparatevi perché mia d'ora in avanti nelle prossime puntate fino alla fine guardate com'è guardate come combatte è tremendissima è tremendissima dicevo mia nelle prossime puntate fino alla fine del gioco me la porterò sempre dietro sperando che non muoia ora quanto ho letto nel manuale non può cioè non è che non può è veramente veramente difficile farla morire definitivamente c'è un bisogna che praticamente quando a regola finisce gli hp non muore ma va KO in uno stato combatoso e noi abbiamo veramente tanto tempo per curarla e dargli tutto ciò che ha bisogno per rimetterla in sesto quindi è molto difficile che muoia molto difficile che muoia mentre invece dogmeat il cane base di Fallout 3 era una rogna perché ci si affezionava tantissimo e moriva subito come niente subito moriva era veramente fastidioso qua inizia la strada per tornare a casa qui c'è altri cani proprio sembra che il gioco abbia voluto mettermi contro solo altri cani io qua mi prendo la carne perché mia andrà nutrita oh e qui c'è anche il passaggio di livello qui ero un po' titubante però poi alla fine ho deciso di portare scasso al 50 perché scasso serve tantissimo su Fallout alzare armi leggeri anch'esse al 50 perché è la nostra unica al momento fonte di danno poi in futuro aumenteremo anche magari le armi pesanti anche guarda titubante se mettere qualche punticino armi pesanti o le armi a energia per esempio ma alla fine mi serviva medicina perché i medicinali sono pochi e se mi curo poco è un casino quindi ho portato medicina al 40 e ho alzato ripara per poter riparare la roba che ho solamente robe sfasciate qua mi sono ridato tutta una mega lettura ai perk ce n'erano di nuovi molti nuovi ma nessuno figo quindi ho optato per l'early training cioè siamo stati addestrati da piccoli nell'uso della power armor dell'armatura atomica e quindi possiamo utilizzare da subito l'armatura atomica quando ne avremo una e questo allenamento intensivo ci aumenta anche il carico dopo aver tagliato tutto il viaggio di nuovo sono tornato a megaton e ho visto che questa casa è la casa di burk cioè il tipo che ci ha mandato gli assassini che voleva far saltare in aria megaton dato che non potevo aprire la porta ho cercato perché non potevo scassinarla e non avevo la chiave per scassinarla mi ce l'aveva scasso al 100 provavo a far saltare la serratura che ho provato di tutto ho buttato granate mine questa è un'altra feature della Fallout Wanderers Edition la mod che aumenta notevolmente la difficoltà ma inserisce anche queste piccole chicche veramente veramente fighe ma guardate che roba cioè sembra una porta blindata questa è tipo la seconda granata che provo a infilarci o la terza addirittura niente qui proprio mi sono scoraggiato ho detto vabbè non c'è verso di aprile ho lasciato stare però sono curioso di sapere che cosa ha dentro in casa quel tipo non non mi ricordo minimamente che cosa avesse in casa a questo punto visto che qua eravamo già un'ora andante di episodio sono tornato a casa ho riposato tutte le cose inutili e vi stavo salutando e vi stavo spiegando le ultime cose che avevo capito della mod ora queste cose io ve le rispiegherò a voce normalmente che mi viene molto meglio piano piano nelle prossime puntate mentre che giocheremo quando ci sarà qualcosa da fare riguardo al nostro cucciolo che spero tanto che cresca ve lo spiegherò direttamente in gioco quindi scusate non non mi perdo adesso i chiacchieri inutili quindi ripeto mi dispiace veramente tanto se vi ho dovuto presentare un episodio così ma i file erano andati non c'era niente da fare nella prossima puntata mi organizzo bene mi è venuto un paio di idee per salvaguardare i file di registrazione da vari crash e cose così quindi nei prossimi episodi anche se Fallout dovesse crashare dovrei riuscire a non perdere i dati senza tanti mezzi professionali alla prossima grazie a tutti grazie a tutti